Quello che è successo quell'anno ha cambiato tutto. Ma che impazzita! Stavolta la cazzeranno immediatamente. È una pazza! La scienza dice che esistono indizi che permettono di riconoscere la presenza del male nel volto di un criminale. Invece sono qui. Attorno a noi. Invisibili. Inosservati come uno squalo che nuota sul fondale vicino a una spiaggia. Voglio solo farti delle domande, d'accordo? Sei tu la persona nelle fotografie di questo profilo? Ti giuro che sei la migliore amica del mondo! Te l'ho mai detto prima! Ti voglio bene! Siete andate a una festa senza di me! Alma è scappata. E adesso che facciamo? Dov'è Alma? Alma, questa cosa è molto strana. Dov'è Alma? Non lo so. Alma! Apri-mi forza! Lo so che sei qui! Questo dove l'hai preso? Sta girando da un po'. Dalla notte della festa sei un po' strana. Che è successo? Volevo andare via e mi sono persa. Non credo che quella s*****a riuscirà a diplomarsi. Non esagerare, lei è mia amica. Sicura di non sapere chi te ne ha inviato. Oh mio Dio! Potrebbe essere uno scherzo. Non si scherza mai su queste cose. Alma, questa storia te la sei migliorata. Solo tu sai tutta la verità. Non tiété Radio-Canada. Grazie a tutti.